Play 38, rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione! Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV38, ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Ta-da. Nuovo lunedì, nuova settimana, ricchissima come sempre di argomenti, di ospiti. L'apriamo alla grande, in bellezza, con entusiasmo. Parleremo di moda, vi daremo tantissimi consigli e parleremo anche di tendenze. Quindi, a proposito di quest'ultima, iniziamo dai nostri parrucchieri Fashion & Style. Ta-da! In compagnia dei nostri Andrea e Stefano Parrucchieri. Eccoci qua. Direttamente da Quarrata. Sì. Come state? Bene. Tutto benissimo. Benissimo. Come stai Stefano? Io oggi, da Dio. Compleanno in diretta. Grazie, grazie. Comeriti un applauso, tantissimi auguri Stefano. Grazie. A te, tanti auguri a te, tanti auguri al nostro Stefano. Come parli allo stile, eh? Un pianto ci fa. A te. Grazie. Tanti auguri Stefano, davvero. Sono felicissimo di essere qui oggi, infatti. Grazie. Ma poi, con tre lavori, uno più bello dell'altro. Ci siamo dati alla falsa gioia delle feste oggi, eh? Eh, infatti. Trecce. Che bello di essere così, però. Trecce. Tendenza 2023. Ci siamo... Tendenza primaverile-estiva. Preparati per qualsiasi tipo di evento che sono nell'estivo, quindi cerimonie e varie comunioni, battesimi, eventi più glamour. In estate c'è sempre più voglia di uscire e andare a qualche evento, sicché ci vuole qualcosa un po' per rallegrarci la serata. E abbiamo giocato con tutti questi intrecci, con un po' di trucchi un pochino più importanti. E abbiamo tre ragazze con noi che hanno tutti un richiamo tra trecce o chignon e comunque tutto dato da poter modificare. E infatti, infatti, perché tra l'altro notiamo tre colori diversi, tre tipi di capelli diversi. Abbiamo sempre la nostra Edona con questa mega acconciatura perché ha mille capelli, perché un parrucchiere si diverte ma si esaurisce. E poi abbiamo le altre ragazze che sono tutti i tipi di capelli diversi perché a seconda anche del tipo di capello si deve fare un tipo di acconciatura, perché se è un capello fine, se è un capello grosso, ci sono un po' di attenzioni da tenere. Capelli non solo, ma anche trucco. Anche trucco. Se abbiamo fatto qualcosina di un pochino più accentuato, abbiamo accentuato le bocche dando un pochino più di qualcosa di primaverile, con questi rossi leggermente corallo e un nude, che il nude va sempre comunque, che la vediamo sulla nostra Chiara, che il nude nel periodo primaverile si avvicina sempre a come toni di colore adattissimo anche alla bronzatura. E poi appunto giocheremo a cambiare questi effetti dalla onda alla nostra coda che portiamo sempre dietro per allungare, per giocare sulle trecce. Prima o poi ve la ruberò. Sì, sì, la portiamo sempre con noi. Ecco, ci dimostrate puntata dopo puntata che siete sempre pronti a qualsiasi domanda tecnica. Sì. Perché ci presentate sempre dei trucchi davvero meravigliosi, ma siete prontissimi anche sul trucco, magari a spiegarci quelli che sono i difetti, no? Allora, parliamo anche delle sopracciglia. Ora che siamo in primavera e estate siamo più portati a essere abbronzati perché andando al mare prendiamo il sole per forza. Sì. Sì, la sopracciglia si tende a marcare un pochino di più perché con l'abbronzatura se no si perderebbe un po' quello che è il contrasto con l'occhio. Sì, noi abbiamo osato un pochino di più, abbiamo marcato di più proprio le sopracciglia per rendere proprio, prima di tutto, il tipo di sopracciglia, scusami, a coda di rondine perché deve avere sempre un angolo che è la parte, diciamo, che va nei tre quarti dall'inizio del naso. Ok. Perché? Perché se non abbiamo la coda di rondine, come la vogliamo chiamare, l'occhio tende a scendere. Possiamo spostarle un po' alla francia, almeno le mo' le mo' le sposte. Siamo le sopracciglia. Vedi? Beh, bellissima. Anche qui la coda è arcuata, viene sempre collegata all'angolo dell'occhio e al centro, bisogna tenere sempre una linea che vada nell'iride che si possa prendere con l'angolo dell'orecchio. Tutto ha il suo perché. Il suo perché. Perché se una donna prende una matita o un pennello, prendendo dalla parte del naso fino all'iride, questo è il suo angolo. Ecco, ecco. Perché è l'unico punto dove spinge l'occhio verso l'alto e rende più aperto. Se fosse rotondo sarebbe piangente, ma va a chiudere e abbassa lo sguardo. Avete capito, tadaiste all'ascolto, come trovare l'angolo? Sì, piccoli trucchi del mestiere. I trucchi del mestiere. Poi, l'ultima cosa che volevo dire sulla parte dei fondi, dei contouring, quello che tanti pensano di usare un fondotinta coprente anche in estate, ma come si fa, mi piace più la pelle, è secondo l'effetto. Perché se si vuole un effetto perfetto, diciamo, come tutte, ora sono sui social, alle visi sempre in primo piano, ci vuole un contouring che sia coprente. Però non è detto perché, se è coprente, diciamo, la parte del fondo vuol dire peso. Quindi meno naturale. Perché se è un fondotinta è di qualità, anche se è coprente, anche se dà un effetto perfetto. Risulterà comunque sia naturale. Naturale e non peso sulla pelle. Penso. Fondotinta, effetto storia. Ripetiamo che vi basate su diverse linee per i capelli, ma avete anche proprio la vostra la vostra linea. Prendizzata. La mostriamo? Eccola qua. Ok, cosa abbiamo? Eccola qua. Vi faccio anzi qualche domandina tecnica anche sui prodotti, ad esempio, per proteggerli dal calore? Il thermal protector. Perché c'è tutto, vero? C'è un thermal protector, che è uno spray che va dato alla fine del phon, o anche durante, perché anche il phon è sempre un prodotto che crea calore. Delle volte anche più della piastra, perché è una resistenza che diventa incandescente e che può aggredire di più della piastra, perché la piastra ha, diciamo, un riconoscimento a livello di microchip che se è troppo caldo e il capello subisce un po' più di quello, si blocca. E quando si sporcano subito i capelli, cosa fare? Come comportarsi? Lo sono un po' adatto. Che a volte, una domanda molto frequente è come mai i capelli mi si sporcono subito? E che spesso viene usato un prodotto che non è adatto alla tipologia di cute e alla tipologia di capello. Perché la bravura nostra sta nel consigliare il prodotto che vada sia idoneo alla cute, ma allo stesso tempo anche a capelli, perché se si dà un prodotto che non è funzionale sulla struttura va a danneggiare la cute e viceversa. Quindi noi cerchiamo sempre di consigliare al meglio per far durare anche molto di più i servizi tecnici che noi eseguiamo in salone e farli durare più a casa. Perché insieme nel questo che si sporcano subito, oltre al prodotto, bisogna anche vedere quanto si tocca i capelli, perché ci sono delle persone che se li toccano tantissimo e purtroppo la mano è più grassa, tende a dare runtuosità sui capelli. Spesso è anche un nostro difetto, diciamo, perché li tocchiamo continuamente. Vi posso garantire che questo è solo il riscaldamento, dopo vi farò tutta un'altra serie di domande anche sui colori. E noi siamo prontissimi. Grazie mille, a dopo. Grazie a te. Andiamo avanti parlando di moda, della moda di Donkey Swing. In compagnia del nostro Marzio Franceschini. Non hai più bisogno di presentazioni, Marzio. Buonasera, Carlotta. Come stai? Benissimo, grazie. So che ci devi raccontare e spiegare di un evento andato alla grande. Sto parlando di un evento del 18 di marzo. Sì, infatti si chiamava Party Prima di Primavera. Bellissimo questo gioco di parole. Party Prima di Primavera. Sì, per tre giorni abbiamo anticipato e almeno era, diciamo, un indizio giusto. Com'è andato? È andato molto bene, anche perché, anzi, vorrei raccontare, ma soprattutto ringraziare, delle collaborazioni tipo con Riccardo di Fashion Book, con Andrea Barbershop e con Maria Romoli che ha curato tutto un insieme di foto e di video con una collaborazione meravigliosa. L'evento è stato piacevole e divertente perché in amicizia abbiamo creato un piccolo party che ha entusiasmato i presenti, ma soprattutto abbiamo presentato anche un sacco di cose nuove. Ecco, anche proprio con un Barber Experience. Sì, perché nell'occasione Andrea, che è un amico ormai da una vita, avendo praticamente un punto Barber nel negozio con una vecchia poltrona abbiamo organizzato dei piccoli tagli di barbe, di baffi, delle cose divertenti che praticamente hanno aglietato anche le persone che sono venute. Ma soprattutto sarà questo un evento che farà da apripista, giusto? Per tanti altri eventi che ci accompagneranno per tutta la primavera, ma anche per l'estate. Sì, ecco, la nuova stagione ci ha dato la possibilità di creare diversi eventi. Sono tutti programmati, non soltanto nel nostro punto shop, ma anche in locali di Firenze e questo sarà praticamente un percorso che faremo per tutta la primavera-estate. invitando clienti, amici e tutte le persone, gli farà piacere partecipare a questo tipo di occasioni, insomma. Facciamo la moda e non la guerra, perché? Sì, perché diciamo un vecchio slogan, facciamo l'amore e non la guerra, in questo caso facciamo la moda e non la guerra, per sfatare quello che tante volte può rappresentare un capo militare, ma in realtà diventa divertente aggiungendosi e impreziosiendolo con delle cose particolari, come nel nostro caso. Quindi li mostriamo? Certo. Con questa sfilata preparata per voi. Prego, regia. Prego. 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 Iniziamo alla grande. È vero. Ma che bellezza questi outfit, total look come sempre, ce li descrivi? Sì, divertenti, anche per rappresentare intanto una cosa, che tutto quello che riusciamo a elaborare è sia uomo che donna. Infatti la grinta di Lorenzo non è sfatata da queste margherite, mentre la bellezza di Elisa è esaltata da queste margherite e soprattutto anche da questi gioielli che lei indossa. Che lei indossa e produce insieme a sua sorella Irene. E li re, infatti. Proprio per questo si chiamano Eli re creazioni. E danno, diciamo, un tocco. Creati a mano, proprio per questo sono unici ed è possibile addirittura scegliere il tipo di materiale, sto parlando di cristalli, acciali e argento. Cioè sono davvero uno più bello dell'altro, orecchini, bracciali, collane. Io sono contento perché dando questo tocco, diciamo, impreziosisce i capi che indossa con questa bellezza, vedi, degli orecchini, bracciali e poi questo outfit, io non lo so se lo dico o un po' di parte sono. Ah, Elisa sta meravigliosamente. Benissimo. È bellissima così. E nello stesso tempo la grinta di Lorenzo viene leggermente attenuata da questo tono di giallo con le margherite che nonostante quella grinta, diciamolo, che sembra quasi cattiveria, ma in realtà è felicità perché indossa un capo stupendo. Beh, per non parlare anche della tua, no? Io mi adego, io mi adego, sì, mi adego sempre al look anche perché mi diverte, mi adatto e mi diverte partecipare a queste creazioni. Ripetiamo che poi c'è sempre anche un'attenzione particolare e un lavoro non indifferente nella scelta anche di questi outfit. Sì, ovvio, sono molto facilitato da chi mi aiuta in queste occasioni perché per esempio con Elisa è stato facilissimo perché abbiamo provato tre cose e tre cose stavano bene, perciò è andata così, se sei d'accordo, vero? Con Lorenzo stessa cosa, perciò diciamo che ho anche fortuna, no? Con che scelgo che indossi i capi perché hanno una partecipazione forse innata, chi lo sa. Dei capi che poi tu, diciamo, ridai vita, no? Sì, perché... Li personalizzi. Chiaramente, come si vede, insomma, i capi che indossano hanno questo aspetto vintage che rivivono praticamente una seconda vita, le t-shirt prodotte da noi hanno questo gusto un po' retro, old school, come si usa a dire. C'è una parola che mi è piaciuta molto prima, li rendi facili. Li rendo facili, sì. Che significa? Li rendo facili perché questo è un abbigliamento che per tanti che non riescono a comporlo da soli, si rendono conto di quanto sia semplice e facile indossare un outfit di questo tipo per poter andare dove vogliono, perché in questo caso Elisa può andare a una serata importante in una discoteca, in una sala, in un ristorante e Lorenzo lo stesso può partecipare in qualsiasi occasione perché non è un capo che gli obbliga a niente, anzi, dove entrano sicuramente loro sono divertiti ma divertano anche chi li vede. E questo è importantissimo, grazie Marzio, ci torniamo più tardi. Andiamo avanti con muoversi contro corrente. In compagnia della nostra Lucia Manneschi di Figline di Copperformen, direttamente da Figline. Tutto bene? Come stai? Benvenuta. Bene, grazie. Allora, innanzitutto ci spieghi chi sei, ci spieghi del tuo centro, tra l'altro avete aperto davvero da poco. 18 marzo. Il 18 marzo abbiamo fatto questa inaugurazione, ringrazio il vice sindaco che è venuto a farti... che viene a farti... Allora, sì, Rale, aggiustano il microfono, avete inaugurato quindi il 18 di marzo e stavi appunto ringraziando il sindaco, giusto? Presenti un allenamento nel centro molto particolare, sto parlando delle MS. Sì. Un allenamento velocissimo in soli 15-20 minuti. 20 minuti. 20 minuti. Una volta a settimana. Sì. Noi riusciamo ad allenare le persone una volta a settimana, cercando di raggiungere il loro obiettivo di quello che desiderano. Ed è possibile? È possibile. In 20 minuti una volta a settimana? Sì, perché noi lavoriamo con un macchinario, mettiamo, che è l'EMS, che è un elettromio stimolazione, dove andiamo a aiutarli praticamente con la muscolatura, più il loro personal training che sta insieme a loro che li allena. Quindi è un allenamento mirato, ma anche personalizzato. Mirato e personalizzato, sì. Per le loro esigenze, come abbiamo detto prima. Chiaro che l'elettrostimolazione va a colpire il 90% della massa del nostro corpo e riusciamo ad avere grandissimi risultati. Inizia quindi con la famosissima, lo dopo il scontato, intervista, no? Inizia praticamente con una piccola intervista dove il cliente ci deve innanzituro fare tutta la sua amnesi, così si dice, per capire dove dobbiamo andare a mirare con l'elettrostimolazione. Al che viene poi vestito da noi con una tutina ed un giubbotto, attaccato alla macchina e partiamo con la stimolazione insieme all'allenamento. Accidenti, quindi non deve portare via una tuta? Ci pensate voi? Pensiamo tutto noi alla persona. L'unica cosa che portano è un calzino antiscivolo. È per tutti uomini, donne, da quale età? Allora, è per tutti, va dai 18 aglianta, perché abbiamo anche persone di 80-90 anni che hanno bisogno di mettersi in forma e di ritornare a fare dei movimenti che hanno perso. E adesso, insomma, che ci stiamo avvicinando all'estate, no? Alla cosiddetta prova costume, direi perché no? Quindi a tal proposito, no? Questa domanda mi sorge spontanea. Quando si vedono i primi risultati? Allora, i primi risultati si vedono dalle 4-8 sedute, ma io ho sempre detto più mettete impegno durante l'allenamento e più il risultato viene fuori prima. Nella sala non vediamo tante persone insieme? No, noi alleniamo al massimo due persone ogni mezz'ora, perché fra il cambiarsi e il rivestirti, è chiaro che passano quei 10-15 minuti. Infatti, se detto, gli allenamenti sono 20 minuti costanti e gli altri sono per cambiarsi o farsi la doccia e andare via. Quindi ogni 30 minuti c'è sempre un cliente? Sì. Sempre con il personal trainer? Sempre con il personal trainer, non ti lascia mai solo. È sempre con te, ti segue e ti allena. È da abbinare ad altri sport? O bisogna comunque fare altre cose? Sì, allora, lo puoi abbinare ad altri sport. Infatti, spesso vengono gente che gioca a tennis, gioca a padel, che vuole tonificare, rafforzarsi, ma anche chi va a sciare per una preparazione allo sci prima di andare a fare la settimana bianca, anche questo possiamo fare. O un calciatore che è stato parecchio fermo, noi andiamo a aiutarle di nuovo a fare una stimolazione alle gambe, a tutto quello che lui ha perso, perché noi non andiamo assolutamente a toccare le ossa. Noi lavoriamo solo, esclusamente, a livello muscolare. Quindi è un allenamento che serve per il tono, per tonificarsi, ma anche per dimagrire? Anche per dimagrire, soprattutto per dimagrire e tonificare tutto. Benissimo. Questo è solo il riscaldamento, eh? Sì. Quindi ci torniamo più tardi. Va bene. Grazie mille, Lucia, grazie. A te. Perché adesso vi faccio trasferire tutti nel salutino dalla bella e brava Lucrezia per i suoi consigli. Vai, Lucrezia! Ta-da! E grazie, Carlotte, buon pomeriggio a tutti voi. Oggi torneremo a parlare di Lara B insieme alla nostra Tatiana Di Mambro. Benvenuta e bentornata. Ma buonasera, buonasera a tutti. Di rosa vestite entrambi. Rosa, Lara B, ovviamente. Rosa, Lara B. Infatti quando sono andata a scegliere l'outfit ho detto oggi, semplicemente, rosa. Assolutamente, hai fatto benissimo. Eccoci. Allora, parliamo un po' di Lara B. Un banco al mercato che lo possiamo trovare a Firenze, un po' sparso, diciamo, in tutta la provincia di Firenze. Ma di cosa si occupa Lara B? Lara B da otto anni si occupa di abbigliamento da bambino dalla zero fino alla dodici anni. Quindi abbiamo proprio dalla pancia fino alla prima media. Abbigliamento elegante, sportivo e anche eventualmente intimo, di buona qualità. Ma prima di parlare di questo, riequiloghiamo un po' com'è che nasce Lara B. Lara B nasce circa otto anni fa da una famosa domanda ma possiamo aiutare qualcuno da vendere una licenza ambulante? La risposta fu ma perché io no? Sii presente. E quindi dal tacco todici in via Tornabuoni, in bicicletta, mi sono catapultata nel mondo dell'ambulantato, facendo faville poi perché ho sconvolto completamente tutto il settore del mercato nella maniera più bella possibile, dando veramente colore. In questo caso il rosa Lara B. Il rosa Lara B e tutti i bambini e le bambine che vengano al tuo banco sono dei veri e propri miracoli, giusto? Assolutamente, come li chiamo io, sono dei piccoli miracoli che fanno veramente gioire genitori, zii e nonni quando appunto gli si regala un pencerino e quando vengono da me mi vengono a trovare, quando ricevono anche il mio pacchetto regalo. Ma a proposito della L che troviamo sulla sua fila e della B che troviamo nel pantalone che quelli da casa non possono vedere, non hanno questo privilegio, direi di far vedere L e B, ovvero Lara B con la sfilata. Prego. Ecco la nostra Lara! È tornata, finalmente! Quindi entriamo in più nel dettaglio nel vedere appunto i tuoi servizi del negozio con questi bellissimi outfit. Abbiamo deciso oggi di iniziare la prima sfilata di Lara con un tre pezzi, quindi una felpa, una maglia, un pantalone per la primavera. Ecco, guardiamo anche la maglietta della nostra Lara che è sparita, eccola. Ok, sta tornando, sta tornando. Quindi appunto dicevi la maglietta sotto. A manica corta, la felpa sopra, il pantaloncino. Perché questo? Perché adesso i bambini andando a scuola e questo è un abbigliamento che noi abbiamo sì per una taglia 10-12 che adesso sta indossando Lara ma anche per il nido, la materna, le elementari e le prime medie. Quindi è un abbigliamento... appunto che si può tranquillamente adattare alla stagione quindi la mattina è proprio fresco, abbiamo la felpa quando escono da scuola dalle 2 alle 4 hanno molto caldo e quindi cosa fanno? Tolgono la felpa e hanno la maglietta a manica corta quindi è un connubio perfetto per le mamme per non stare a impazzire la mattina nell'armadio a cercare cosa gli metto oggi, questo. Quindi il classico abbigliamento a cipolla che ci deve sempre essere appunto... Esattamente ed è strutturato proprio per far sì che i bambini si sentano anche a loro agio perché sappiamo che il bambino deve saper fare da solo e fare da sé, quindi non ha bottoni, non ha troppi fili la zip è molto facile da mettere ha un cappuccio in caso di vento quella pioggiorellina che tanto appena suona la campanella piove, sicuramente assolutamente comincia a piovere e quindi è una cosa che le mamme adorano e che vendo tantissimo proprio per l'adattabilità al bambino la semplicità. Un abbigliamento comodo ma anche satile quindi si può un po' abbinare... Sì, lo possiamo trovare da me in vari colori da bambino, da bambina in varie fantasie e questo è praticamente un passepartout per tutto l'anno quindi è un quattro stagioni. Ma siccome oggi, insomma, in questo periodo è periodo del cambio dell'armadio cosa assolutamente non deve mancare in questa primavera per i bambini e per le bambine? Cosa consigli? Allora, consiglio la Larabie Box La Larabie Box è, diciamo, un consiglio che do a tutte le mamme di venire da me ed acquistare, per esempio, per un cambio dell'armadio veloce tre completi come quello che abbiamo visto due abiti leggeri e una magliettina e un pantaloncino semplici che poi vedremo sfilare indosso a Lara dopo nella seconda parte e sono quei, diciamo, cinque capi di abbigliamento che fanno sì di avere subito in pronta consegna un armadio velocissimo per i bambini e per impattire almeno possibile la mattina perché sappiamo che quello non si sveglia quello non vuole fare colazione allora andiamo, forza, va invece così in un balletto i bambini sono già che cambiati, che vestiti Ecco, ma il tuo banco dove lo possiamo trovare? Allora, noi siamo martedì alle cascine davanti alla passerella delle cascine quella principale il giovedì al Galluzzo il venerdì all'Isolotto esattamente parallelo alle cascine e il sabato a Sesto Fiorentino tutto il giorno mi raccomando controllate sempre la mia pagina Facebook perché vi dirò in queste domeniche dove sarò a fare le fiere dove almeno le potete portare C'è una sorpresa quindi dopo però ce lo dirai quindi in anteprima nell'ultima parte Parola brava, parola brava Quindi Lara B, un banco al mercato sempre moderno e all'ultima moda anche perché in maniera settimanale ti arrivano sempre nuove cose Tutte le settimane tutti i martedì a partire dal martedì abbiamo sempre le novità che poi via via nei vari mercati potete ritrovare ovviamente nelle taglie anche a sportice C'è solo un periodo dell'anno come questo che facciamo anche gli stock quindi state molto attenti a venire al banco e cercare l'occasione di quindi capi anche firmati chissà quali sono lasciamo un po' di curiosità e dopo torneremo a parlare di Lara B quindi passiamo alla linea Carlotta Andiamo avanti parlando della tradizione del cappello in compagnia di Giuseppe Grevi grazie per essere con noi ma soprattutto ben ritrovato Ciao piacerone mio Come stai? Tutto bene? Tutto a posto tutto a posto poi ora che ti vedo qua che non vedo l'ora di provarti i miei cappelli io non vedo l'ora di provarli ancora più felice ma prima ripartiamo proprio da quella che è la tua storia che ti contraddistingue che inizia da lontano 1875 esatto si è iniziato il bisnonno sull'onda è la tradizione del cappello di paglia di Firenze una tradizione molto importante per il tessuto economico della società soprattutto all'epoca e poi si è sviluppato negli anni a seconda delle regole della moda e delle mode noi abbiamo alla fine collaborato con tutti i più grandi stilisti internazionali abbiamo lavorato anche col cinema e ci siamo evoluti diciamo a seconda perché il cappello di per sé non è un prodotto molto facile da vendere quindi ci siamo diciamo inventati nel miglior modo possibile abbiamo affinato la nostra produzione che tuttora è viva e diciamo molto molto specializzata perché in più di cent'anni insomma guardate che meraviglia e si riusciamo a fare quelle cose che altri non riescono a fare ma poi oggi il cappello è un accessorio importantissimo che completa l'autosic perché non può mancare a nessuna donna ma anche ad un uomo esatto la cosa bella è che piace molto ai giovani e questa è una cosa che ci gratifica moltissimo i giovani hanno iniziato a portare il cappello soprattutto ti parlo anche di rock star di star di Hollywood che ce li chiedono direttamente loro addirittura quindi questo ci dà ci dà grandi soddisfazioni perché comunque il cappello è quell'accessorio che sta vicino agli occhi e gli occhi sono lo specchio del cuore uno dei più importanti quindi somigliano molto alla persona che lo porta non è un accessorio fermo questa è una borsa una scarpa bellissima per carità però il cappello da personalità pensa Clint Eastwood come a colazione da Tiffany ti dà ti dà una grande personalità una grande allure ecco lavori con materiali naturali con paglie sì allora noi abbiamo iniziato con la paglia perché nella campagna vicino a Firenze precisamente a Signa Signa Campi da quel partito fu inventata questa coltura della paglia del grano non per fare il pane ma per fare i cappelli e da lì è nata tutta questa tradizione che è diciamo rimasta nel nostro DNA è rimasta nel nostro cuore nel nostro sangue e quindi i materiali che utilizziamo sono quasi esclusivamente naturali quindi si parla di paglia si parla di abaca che poi sarebbe abaca di Manila che sarebbe la canapa chiaramente detta canapa la sala che è quella dei fiaschi di vino la raffia che è quella che adesso vabbè che viene da Madagascar ma che noi intrecciamo e lavoriamo o se no il sisal che è immaginati un agave che sfilaccia nel Panama idem il Panama è una foglia di una palma che in Ecuador viene togli filini e viene lentricci a mano e questi sono i nostri materiali capiamo che ricerca c'è dietro anche perché parliamo di materiali anche di qualità guarda cosa stavo facendo posso avvicinarmi? vieni vieni non aspettavo altro ecco a parte questo ce lo descrivi ma tipo con questo no? dove posso andare? ma San Tropez San Tropez San Bart quando? beh direi proprio di sì è perfetto ma anche a Forte de Mar Forte sì qua dietro infatti scusa ce lo descrivi anche perché ha una lavorazione bellissima ci sono cinque lavorazioni differenti ci sono cinque lavorazioni differenti cinque? sì e anche quattro materiali differenti e cioè quali sono? praticamente il materiale viene viene prima tagliato ok ebbene prima cosa intrecciato intrecciato poi viene tagliato nelle tre parti diverse che vedi cucito Giuseppe la telecamera è la tre ah sì c'è la tre poi viene cucito ah te seguivi stavi seguendo il trenino doll no tipo è la tre e poi appunto viene cucito e poi viene fatta anche quella che si chiama sopra che si chiama guarnizione che è l'ultima fase per l'imbellimento è meravigliosa davvero bellissimo e anche la sprangiatura alla fine è quella la cosa più facile perché basta tirare i fili e diventa così andiamo avanti qui invece c'è raffia sisal raffia e sisal qui ci sono solo due materiali vabbè scopenda solo due era detto così solo due materiali sì questo è davvero bellissimo sì qui lì sotto c'è questo questo sisio stampato stampato di tipo leopardo questo è netto anche qui anche questo è un cappello prevalentemente che porti in spiaggia in viaggio così come anche gli altri ecco gli altri questi sono più da viaggio sono più facili ci sono c'è l'imbarazzo della scelta ci sono anche diverse tipologie questa canapa questo è un cappello che te puoi mettere tranquillamente in borsa lo metti in valigia e non si sciupa e nel senso è leggero poi è leggerissimo è perfetto è leggero che per proteggersi dal sole no? sì sì questo è proteggersi dal sole però con questo diciamo che ti puoi fare anche in città bellissimo mi piace davvero tanto questo te lo puoi portare è incredibile dopo ne mostriamo altri questo è solo l'inizio sì questa è una borsa ah c'è anche la borsa ovviamente sì vabbè c'è anche questa borsa che questa è la anche questa ha una grande dei bellissimi fiori una grande connotazione di manualità vedi questo è comunque tutta la paglia di Firenze cucita poi ci sono questi fiori ricamati a mano tutti a mano e queste rifiniture all'uncinetto accidenti che lavorazione stupenda questi sono lavori certosini eh sì questa è proprio diciamo la nostra tradizione riportata al presente e diciamo riportata in un contesto fashion ma ho visto i fiori bellissimi ricamati sui vestiti poi ho sentito parlare di cerimonie è tutto diciamo quando siamo in Toscana poi alla fine si parla sempre delle stesse cose tutta tradizione ovviamente riportata a oggi grazie mille Giuseppe questo è solo l'inizio grazie a dopo perché adesso spazio la nostra cucina dita da oggi con noi per la prima volta sto parlando della chef Sara benvenuta come stai? bene grazie te io molto bene grazie come ci stupirai intanto insieme per la prima volta beh questo già è una cosa positiva e poi guarda vedo dei prodotti davvero interessanti sono pieni di colori e tante cose dentro vediamo quello che riserva poi la ricetta lo scopriamo insieme che dici? io direi proprio di sì dalle ore eh dalle ore dalle ore io aspetto io sono qui che aspetto dai dalle ore 19 puntualissimi grazie mille Sara a dopo adesso fashion e lifestyle tada andres stefanori eccoci qua eccoci aspetta soli sono scomparse dove sono andate? a forza di tirare le trecce sono andate lì cosa è successo? no ovviamente si sono alzate perché abbiamo intenzione di mostrarvi le acconciature proprio in tutto il loro splendore facciamo fare due passi a queste belle belle ragazze con questa sfilata prego regia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Bombe, ringraziamo innanzitutto ancora una volta Edona, Eva e Chiara, queste sono bellissime loro, le acconciature meravigliose da adesso ce le descrivete nel dettaglio, prego. Allora, Edona, che è la nostra amora la prima, abbiamo fatto un'acconciatura che riprendesse un po' una situazione di donna normanna, con tutte queste trecce, un po' vichinga, con tutte queste trecce, questi intrecci tra loro, delle sciocche mosse. Poi c'è l'altra ragazza che è Eva, che è Stefano. Eva abbiamo fatto, portando dietro sempre la nostra coda, per rimanere nell'effetto appunto delle trecce, giocando. Ti puoi girare Eva, almeno la mostriamo a 360 gradi? Abbiamo, si è giocato, scoprire molto questo bellissimo viso che ha, solamente rimanendo un pochino nel gioco del volume, quindi non schiacciando troppo come la classica coda, ma rinnovandola un pochino con l'aggiunta appunto della nostra applicazione. E a Chiara? E a Chiara invece abbiamo giocato anche lei su una lavorazione diversa del classico chignon. Appunto la base dietro è uno chignon classico, quasi da ballerina danza classica, ma giocandoci davanti con questa treccia che li accompagna, che va un po' a scomparsa. E la domanda è questa, e dopo, nella terza parte? Cambiamo tutto, non è vero, ci giochiamo, ci giochiamo, ci giochiamo, per far vedere sempre come si può cambiare con poco la stessa acconciatura. Ce l'ho anche una tricce, non so se si è notata, ovviamente non poteva mancare anche a me per restare in tema, ovviamente. A proposito delle domandine tecniche, dato che qua abbiamo anche tre colori diversi, ma il colore a volte non dura, 10 giorni e ciao colore se ne va, perché? Allora il colore, secondo che tipo di colore, perché ci sono dei colori che sono di moda ora, li chiamiamo sintetici perché i blu, i rosa, i lil, tutti sono colori che purtroppo vengono creati, non esistono come colore reale. Sicché se non diamo un giusto, come ti posso dire, di poterli curare a casa, si può perdere nei lavaggi, nei 10-15 giorni seguenti. Se invece le nozioni che noi diamo vengono eseguite perfettamente a casa, il colore dura anche un mese, un mese e mezzo, due. Gli altri colori invece hanno tutti una durata fino a che non si va a fare la ricrescita. Se ci sono problematiche sulla lunghezza che perdono un po', delle volte può essere un capello che è troppo utilizzato anche da sole a casa, troppo trattamenti chimici fatti da noi, allora il capello diventa poroso e perde più il pigmento colorato durante il mese in cui l'ha fatto. A proposito di curarli, lo ripetiamo, non solo vi affidate a Piulline e ci rispiegate il perché, ma avete proprio la vostra brandizzata che è lì. È qua, sì. Allora, noi ci affidiamo a Piulline perché ogni cliente deve saper scegliere, poter scegliere una gamma di prodotti che però durante il percorso che lei lo adopera gli può venire a noia e vuole un altro tipo di prodotto che sia sempre di qualità. Poi venga la noia anche a noi che li usiamo, quindi non abbiamo bisogno di stimolare. Donne ma anche uomini. Sì, sì, sì. Abbiamo un po' bisogno di toccare altre cose per vedere e scoprire altri mondi. E le altre linee? Le altre linee in senso? Sì. Che cosa si trova da voi? Insomma, tutto quello che troviamo da voi. Ecco, scusami, non capivo. Allora, le altre linee sono tutte correlate. Sono tutte correlate. Ci sono dei prodotti che sono proprio per l'air care che sono quelli che guardano alla parte lavaggio dove ci sono gli sciampi, le maschere, le gocce, gli spray diciamo idratanti, i protettivi termici. Poi ci sono la parte styling che sono la parte, quella che si adopta alla fine di un'acconciatura. Ok. Uno spray lucido, una cera, una lacca. Sono tutti prodotti che si possono combinare e le varie linee sono tutte complete. Volevo arrivare proprio qua per far capire a tutti i telespettatori che da voi c'è l'imbarazzo della scelta e si trova davvero tutto. Fortunatamente. I loro prodotti sposano qualsiasi esigenza. Grazie mille Stefano, grazie mille Andrea. Ci torniamo più tardi. Più tardi. Grazie. Che cambio look, che cambio look. Sì, sì. Andiamo avanti con la moda Donkey Swing. Marzio, riaccoci qua. Ma perché Donkey Swing? L'abbiamo già detto altre volte, però è giusto ricordarlo. Nasce tutto da un'idea di miei figli, che è Donkey Stappeciuchino, che era uno dei pupazzi preferiti di mia figlia e soprattutto è diventato una collezione avendone comprati nel tempo tantissimi. Swing è scelto da mio figlio Lorenzo e in realtà è anche quello che mi sento anch'io, insomma. Sono molto Swing. Abbiamo la seconda sfilata. Facciamo la moda e non la guerra. Sì. Quello che abbiamo detto prima. Facciamo la moda e non la guerra. Che nasce sempre da facciamo l'amore e non la guerra. Anche qua abbiamo questo gioco di parole. Sì, era molto Peace and Love, perciò l'abbiamo leggermente modificato con un buon consiglio in Facciamo la moda e non la guerra. Quindi, prego regia. Anche questi outfit impreziositi da questi bellissimi fiori. Sì, sono degli viscus ricamati sopra. Ci abbiamo messo veramente tanto impegno per poter riuscire ad ottenere un risultato che chiaramente rende, come ho detto prima, piacevoli dei capi destinati a tutt'altro. E soprattutto è un discorso anche di colori, perché come si vede appunto, no? Cioè il pantalone rosso di Lorenzo abbinato a questa giacca in mimetico verde o camouflage, come si vuol dire. Sì. Mentre gli accessori che impreziosiscono, ma soprattutto rendono gioioso l'abbinamento di Elisa, sono questi orecchini, questi occhi meravigliosi a lei. Non sono solo gli accessori, ma è anche chi l'indossa. Questa tonalità di arancio del cappello che fa Pantan con i fiori sopra e queste scarpe meravigliose che ha scelto lei in questo tono molto travolgente che rende veramente entusiasmante questo outfit. Degli outfit davvero preziosi che poi, lo ripetiamo, saranno tramandati di generazione in generazione. Ma io credo che questo genere di cose non muoia mai, anche perché ha sempre una rinascita, è sempre qualcosa che viene rindossato in delle occasioni diverse. Perciò, chissà, queste giacche che risalgono minimo a una ventina, se non trenta anni fa, che sembrano nuove. Sì, nel tadà del futuro fra trent'anni, che non ci siano ripresentate chissà da chi e in quale veste, insomma. Chissà, chissà. Forse ho dei razzi dentro, chi lo sa. Perché no? Dove ti trovi di preciso? Campo Bisenzio, esattamente località Capalle, via dei confini 110. Ripetiamo perché ti chiami anche Donkey Swing, Gol Cabo. Gol Cabo, sì, perché, diciamo, il fondo dove ho trasferito la mia attività... La vediamo, eccolo qua, bellissimo negozio punto vendita. Questo è l'evento di sabato 18. È un museo, è un museo all'interno. Sì, sì, ci siamo veramente divertiti con infinità di accessori, anche perché io ho una particolarità. Mi piace molto che le persone, quando entrano nel mio shop, si divertino. Non solo dalle cose che possono acquistare, ma anche da tutto quello che possono trovare dentro. Tipo? Gli accessori, i bauli, la sirena, l'aereo, la sedia da barbiere, insomma, e l'armadio che in realtà sono praticamente degli spogliatoi. Nicolas Cage... Dipinti. Vedi, ha appoggiato a Cinzia che si sta divertendo, oppure il biker che ha detto di andare a giocare a golf. Sono quelle particolarità. I manichini che sembrano veri, che sembrano persone vere. E Lorenzo chiaramente dimostra tutta quella sua grinta come ha fatto prima. I social, anche per capire, per restare sempre sul pezzo, per sapere tutti quelli che saranno i tuoi eventi. Anche perché abbiamo detto che da quello di sabato 18, parti prima di primavera, farà da apropista tantissimi altri eventi. Ha dato inizio, diciamo, a tutta una serie di eventi che si svolgeranno sia ancora nel mio punto vendita, ma anche in dei locali importanti di Firenze, dove presenteremo anche lì le novità, dove faremo sfilare degli amici più che altro. E presenteremo praticamente la serata in una maniera piacevole e divertente proprio per far collaborare tutte le persone che sono nostri clienti e anche i nostri amici. Ora, volevo ringraziare anche Marco Panerai, che oggi ci ha dato la possibilità di arrivare qui con questi due amici che sfilano per questa, diciamo, occasione in maniera eccellente. E quindi ringraziamo Marco. Grazie. Grazie Marzio. Grazie a te, Carlo. Dopo per la terza sfilata. Bene, a dopo. E sarà ancora una volta una grande sorpresa. Grazie. Cosa succede adesso? Che andiamo in pubblicità. Restate tutti sintonizzati perché Tadda torna subito. E eccoci qua anche per questa seconda parte la riapriamo con i consigli di muoversi contro corrente. Tadda! Lucia, quindi, riaccoci qua. Abbiamo capito che avete aperto da poco, esattamente sabato 18 marzo a Friviene. È andata benissimo e sta andando alla grande. Alla grande. Siamo contentissimi. Abbiamo tantissime prenotazioni, anche perché dicevamo che noi facciamo una prova gratuita per far capire che cosa è Co-Performel. Che cos'è EMS. E-M-S. Lo ripetiamo. Importantissimo. Che è elettro-mio-stimolazioni. Cioè che noi andiamo a stimolare il 90% della muscolatura del nostro corpo. Ecco, ma parliamo di elettro-stimolazione. Se lo staranno sicuramente chiedendole a casa. Ma fa male? No, no. Assolutamente. No, perché noi andiamo a stimolare praticamente il muscolo però in profondità. Arriviamo in profondità. Poi c'è un connubio che funziona sempre benissimo perché non solo una persona allenandosi si vedrà più bella, ma soprattutto porta benessere che è forse la cosa più importante. Sì, perché oltre a essere, tonificare la muscolatura, dimagrire, ma riusciamo anche ad arrivare a far star bene la gente, soprattutto a chi ha problemi muscolari, chi ha problemi di contratture, chi ha dolori alla schiena. Noi riusciamo ad aiutarli a ritornare in forma e star bene. Questi sono tutti i benefici, ma ci sono delle controindicazioni? Certo, ci sono anche delle controindicazioni che noi infatti valiamo subito appena facciamo le schede. Chiaro, chi ha determinate patologie non possiamo naturalmente farlo. Ringraziamo lo stesso la persona, li offriamo un caffè, finisce naturalmente lì perché non possiamo arrivare a fare niente. Bisogna anche saper dire di no. Certo. Quello sì. Ho notato una cosa, vedo tanto verde. Sì, perché Copper for Men, che è una ditta tedesca che viene dalla Germania, ha adottato questo bellissimo colore che si vede nella mia felpa, che dà serenità e tranquillità. È vero, il verde è questo. Sì. Quindi c'è questo studio ovviamente legato al colore anche. Certo, certo. Quindi 20 minuti, ogni 30 c'è cambio cliente, seguito da personal trainer, sempre a disposizione. Sempre a disposizione, troverete sempre me, Paolo e Alessandro, che sono gli altri miei tre collaboratori. Quindi salutiamo tutto il team ovviamente. Che sono al centro a lavorare, sì, praticamente sì. Siamo noi tre che stiamo dietro e alle persone. Fornite tutto il necessario. Ripetiamo cosa significa una persona arriva vestita, senza niente. Senza niente. Noi gli diamo la tutina. Capito? Gli diamo le tutine, gli mettiamo il giubbotto, gli elettrodi, calzino antiscivolo e partiamo con l'allenamento. Ecco, un allenamento, anzi un centro che, se non ho capito bene, in Germania sviluppa duecento centri di Gia. Invece in Italia siamo soltanto sei, di cui quattro. Al momento. Sì, ma va benissimo. Però in Toscana mi sembra che siamo molto sportivi, perché ne abbiamo aperti quattro, di cui una a Prato, due a Firenze e noi siamo l'ultimo. a Figline e siamo molto contenti di averlo aperto qua a Figline. Grazie mille Lucia. Prego. Tanto ci torniamo più tardi, nella terza parte. Adesso in linea alla nostra Lucrezia. Allora, Tatiana, abbiamo prima parlato di come rivoluzionare il nostro armadio, ovvero l'armadio dei bimbi e delle bimbe, ma adesso partirei da queste meravigliose tutine che vediamo proprio davanti a noi. Finalmente siamo nel periodo delle nascite, perché non si sa come in Italia non nascono bambini, ma a Firenze sì, vengono tutti da me a comprare. E meno male, no? Vengono tutti da me a comprare le tutine. E quindi, come potete vedere, abbiamo dei pagliaccetti lunghi, adatti per la stagione, in cotone 100%, leggerissimi. Ovviamente, mi raccomando, sotto a questi bambini mettiamogli il body e il pannolino, che non si sa mai. Certo, quello sempre. Qualcuno se lo scorda qualche babbo, magari. E i colori sono sempre quelli di tendenza, il rosa, l'azzurro, il rosso, il blu, che sono quelli che spiccano di più anche per i bambini, per mettergli magari anche le bambine delle fasce, con dei bensi occhi. Quindi anche arricchirli di accessori. Esattamente. E poi abbiamo delle finte salopette, abbiamo il finto marinaretto, quindi ci divertiamo anche un po' a giocare su questa nuova nascita. Anche sono questi calzini scarpine, che vediamo qua. Sicuramente sì, che ci fanno impazzire. E penso che quando le mamme vengono da me a comprare la prima sucina, io gli propongo sempre, ma posso farti il pacchetto regalo, così lo fai scartare al papà? E questa cosa piace molto, perché almeno sentiamo i padri parte integrante di questa nascita, anche da un piccolo gesto, quindi non ce lo dimentichiamo mai. Quindi anche potrebbero essere proprio delle idee regalo queste. Assolutamente sì. Spettini formati, adatti appunto per i bambini. Questi vestono da lì zero? Questo veste da zero fino alla 12 mesi, perché noi sappiamo che i bambini hanno bisogno, come per i bimbi grandi, che dicevamo prima, anche neonati, di comodità. Quindi né troppo vestiti né poco vestiti. Io inserisco sempre i consigli della zia, quindi mi raccomando, ricordatevi che i bambini sentono caldo, se voi sentite caldo, sentono freddo, se voi sentite freddo. Si termolano e regolano con voi fino a sei mesi. Non sono dei bambolotti. No, assolutamente. Non è una reborn. Allora, ma a proposito di bellezza, ci sono anche i tessuti di qualità adatte? Assolutamente sì. Tutto quello che vedete nel mio banco è una selezione che faccio io personalmente. Scelgo e prediligo il cotone fresco per l'estate, l'interlock per la mezza cagione, che tanti chiamano caldo cotone, e per l'inverno freddo il punto milano. Il punto milano è un cotone che è filato a pile, ma in realtà è cotone, che è morbidissimo, sembra pile, ma riscalda molto di più. Per l'inverno i bambini, se sudano nel letto, per esempio, la qualità si trova nei pigiami, il sudore viene assorbito dal tessuto, e non come il pile che la goggiorina scende e poi casualmente si ammalano. E la qualità dei tessuti è ancora più importante proprio nei bambini, quelli anche molto piccoli. Tanti di loro fino a 12 anni soffrono di dermatite atopiche, poi con lo sviluppo spesso va via, però prediligo assolutamente spesso il cotone 100%, al massimo posso mediare a un 85%, ma proprio medio, ma in realtà preferisco sempre il 100%, e vedo che le mamme si trovano proprio bene. Si trovano molto bene. Che per i lavaggi. Bene, ma a proposito di tessuto di cotone, andrei a far vedere la sfilata con la nostra Lara. Doce amaro, il tuo sorriso, doce amaro, il mio panno e il rito, doce amaro, il tuo profumo, doce amaro. Come stai? Cosa fai? Sei lo stesso, sai come mai? Bellissima la nostra Lara, con questa maglia super primaverile, ma anche comoda. Sì, come dicevamo prima, questo invece è un abbigliamento per il pomeriggio, quindi mamme, portate le bambine a distruggere i leggings, così almeno le ricomprate dalla zia. E' un completino, magliettina, leggings tre quarti, che è veramente comodo per stare in sintonia anche con se stessi, scorrazzare in qua e là per i giardini, o semplicemente se abbiamo un compleanno di un altro bambino. Moderno, ma anche super alla moda, perché sia nei leggings che nella t-shirt vediamo i colori di questa primavera. Ebbene sì, mi hai scoperta, anche qua abbiamo il rosa, ma non più l'arabì, abbiamo il rosa confetto, il giallo fluo e il colore veramente di quest'anno è il glicine, che ci accompagna proprio per la primavera. Ecco, il glicine quindi sia per i bambini piccoli, ma anche per le ragazze. Assolutamente sì, è un colore molto pastello, tenue, che sta andando tantissimo di moda, perché va bene proprio a tutte le bionde, le more, le rosse. Per me, per esempio, anche se io prediligo sempre il rosa, quindi non ci sbagliamo. Mentre per i maschietti, per esempio, che colori possiamo trovare nel tuo banco? Per i maschietti siamo ancora con il verdone, come dicevo le scorse puntate, va tanto l'animalier, e poi il rosso, per quanto riguarda l'attacco stagione, che non è più quel rosso invernale che fa molto Babbo Natale, ma è un rosso un po' più ciliegia, che sta bene anche lì a tutti i tipi di bambini. Ok, e da te eventualmente è possibile fare una tessera fedeltà? Sì, in collaborazione con Avon abbiamo scoperto questa nuova sintonia, che ogni completamento della tesserina, quindi di 10 bollini, ogni 40 euro di spesa un bollino, la mamma, o la nonna, o la zia, avrà un regalo, quindi non più regalare ai bambini qualcosa, ma bensì regaliamo noi qualcosa alle mamme, quindi le premiamo per essersi fidelizzate. Chi più spende, meno spende. Eh sì. Quindi ecco, motivo in più per venirti a trovare, ma ripetiamo dove ti possiamo trovare. Martedì alle Cascine, davanti alla pasterella dell'isolotto, giovedì al Galluzzo, venerdì all'isolotto stesso e sabato a Sesso Fiorentino tutto il giorno. Bene. Lo spoileriamo dove sono? Ma spoileriamolo. E questa domenica, prendete carta e penna, mi troverete in via l'Europa, mentre il 23 di aprile, con la ConfCommercio, faremo la fiera a Campo di Marte. Poi il primo maggio? Il primo maggio saremo di nuovo alle Cascine. E il 7 maggio invece? Il 7 maggio di nuovo a Campo di Marte. Mi raccomando, ci saranno tante, tante novità. Quindi, carta e penna, volante in mano e ti veniamo subito a trovare con questo meraviglioso sorriso vestita sempre completamente di Rosa Larabì. E a proposito di Rosa Larabì, dopo parleremo anche delle cerimonie. Quindi continuate a seguirci e noi passiamo alla linea Carlotta. Andiamo avanti, tornando a parlare dei meravigliosi cappelli grevi con Giuseppe. E dove vi trovate? Parliamo dei negozi. Allora, del negozio, noi abbiamo la fabbrica, abbiamo come ho detto prima, a Signa. Il negozio invece ce l'abbiamo in centro a Firenze, in via dei Fossi, Sette Rosso, una via molto poliedrica perché c'è un po' di tutto. Ci sono gli antiquari, storicamente è la via degli antiquari. Però adesso ci sono diversi negozi, c'è anche barbiere. e nello specifico noi siamo all'interno di una corte molto simpatica, molto parigina, dove ci sono brocans, ci sono antiquari, ci sono restauratori e ci sono anche abiti vintage. Quindi è un posto molto carino. Potevano mancare dei cappelli così preziosi creati a mano. E allora noi siamo finiti lì e abbiamo un negozio grande, devo dire grande, dove possiamo anche raccontare la nostra storia, dove possiamo fare servizi personalizzati, appunto per cerimonie, visto che stiamo a parlare di cerimonie, per matrimoni, così facciamo cose su misura e accogliamo appunto la nostra clientela. Ecco perché... È un posto dove c'è un po' tutta la nostra storia, ci sono anche negli arredi, ci sono, tipo la scrivania era del mio nonno, ci sono delle vecchie campagne pubblicitarie degli anni 30, quindi è un posto anche interessante dal punto di vista culturale. Bellissimo. Hai detto personalizzati. Sì. Cosa significa? Perché avete anche il cappello. E allora... È su misura, giusto? Ad esempio per una cerimonia, per un matrimonio, allora per il matrimonio noi facciamo anche i veli, che è una cosa, sembra una cosa facile, ma in realtà fare un velo è una cosa molto complicata. Però, ad esempio, per le cerimonie, in base all'abito che... Scelto. Scelto. Che sarà indossato. Si può realizzare un cappello che ci sta bene insieme, pensando insieme, guardando tutti i materiali, tutte le possibilità, che poi visto ci sono signore che non amano cose troppo sfarzose, noi abbiamo un po' tutte le soluzioni, da quelle minimali a quelle più pazzesche. Davvero. Lavorando appunto anche per il teatro possiamo fare anche delle vere sculture. Che ti hanno chiesto? Ma, senti, io mi ricordo uno fatto per una... per la corsa, quella francese dei cavalli, una contessa parigiana che aveva un cappello di fiori alto quasi un metro e mezzo. Non ci credo. Alto tutti i fiori, uno sopra l'altro. In cima c'era come tipo un'esplosione di fiume. Come non notarla. Sì, sì. Non possibile. No, no, notarla in quelle occasioni devi partire con l'idea di essere notato. Poi un po' più, un po' meno a seconda di quello, di come sei, della tua personalità. A proposito di corse? A proposito di corse noi... 25 aprile. Segnatevi questa data, il 25 aprile, insieme a tutti i miei, diciamo, colleghi e in collaborazione con Corri la vita e l'ipodromo del Visarno, in occasione della corsa dell'Arno, che è la corsa più antica d'Italia, ma verranno poi dei miei colleghi a parlarne nello specifico fra un po'. C'è questo evento benefico per cui tutte le signore che vogliono partecipare, portandosi un cappello da casa o acquistandolo in loco, possono vincere dei premi pazzeschi. Possono vincere weekend in località belle, molto belle, insomma, spa, anche weekend. Non anticipo nulla perché loro lo ordinano appunto quelli che verranno apposto a parlare dell'evento. Quindi perché non partecipare? Perché non partecipare, perché poi ci sono tutte le varie possibilità, eleganza, quello più eccentrico e anche quello dei bambini. Anche? Anche quello dei bambini che tipo l'anno scorso, mi ricordo, dei premi, era il Giro dell'elicottero di Firenze. Quindi sai, premi belli. Bellissimi. Tra l'altro vedo dei cambi, no? Cambi. Ecco, cosa abbiamo qua? Allora, qua appunto ti dicevo, ci sono le signore che non si vergognano a mettersi un cappellone grande. Aspetta, allora iniziamo dal cappellone grande. E cominciamo a non vergognarsi. Che io non mi vergogno, no, no. Che è questo qua? Siamo poi, vogliamo parlare? Con tutti questi pezzi, no? Sono tutti pezzi, li ho staccati uno a mano e il cappello a mano. uno a uno. Ve ne rendete conto che lavorazione c'è in questo cappello? Ecco. Ed è per questo che è unico. È unico. Sì, come questo ce ne abbiamo tantissimi. Se viene in negozio da noi ce ne abbiamo un'infinità. E poi questo qua che invece è il richiamo proprio alla è una reinterpretazione del cappello di Paglia di Firenze che era con i papà dei livelli con le spighe e con le spighe vere. questo è fatto con materiali nuovi però ecco la cosa bella è la forma vedi? Cioè alla fine quello la cosa bella del cappello è che te lo metti e ti vedi più bella di quello che sei. dovrebbe essere questo questo è il senso poi è vero è vero no no hai proprio ragione velocemente e noi è quello che proviamo a fare questo cerchietto giusto? Questo sì questo è un sono dei cerchietti la veletta va sempre davanti giusto brava ok ti ho mai imparato poi non potevano scegliere il filo il colore preferito il linguaggio della veletta te l'avevo già detto vero? Sì ma ripetice lo ripeto è tanta di un anno la veletta la veletta a cosa serve e a cosa serviva è lo stesso è il significato del matrimonio tu vuoi baciare la sposa e ti risulti negli anni passati se te incontrai un ragazzo per la strada si tenevi la veletta giù niente non ti davi il like tattico non ti davi il like tattico il like tattico è bellissimo se gli volevi dare il like tattico ti diravi su la veletta quindi la veletta era il like tattico di un tempo bellissimo questo messaggio è stupendo stupendo ma dopo nella terza parte in che modo ci stupirai? più che altro mi devi stupire te provandoti questi capelli motivo in più per restare sintonizzati grazie Giuseppe a dopo grazie a te andiamo avanti fashion e hairstyle rieccoci qua eccoci accidenti che cambio look oggi è giornata di stravolgimenti ma e che stravolgimenti allora ce li descrivete e soprattutto li mostriamo che poi non solo per quanto riguarda i capelli ma anche per quanto riguarda il trucco abbiamo aggiunto qualche polvere di brillanti ricordiamoci di brillare di luce propria e beh lo diciamo ormai da mesi che è la parola d'ortine di questo 2023 è vero iniziamo da Edona allora lei aveva tutto un raccolto dietro con delle trecce e tutto le abbiamo sciolte abbiamo mantenuto tutta la sua lunghezza che fortunatamente è sua naturale c'è e c'è mantenendo solo le trecce nella parte sopra e laterale così almeno le dà sempre questo effetto un pochino più rock e non troppo classico non troppo non ho parole per descrivere questa questa acconciatura e su Eva invece abbiamo raccolto la parte dietro della nostra coda applicata dando facendo questo chignon sempre giocando appunto nel tema trecce che è quello che volevamo quindi coda torta il volume e abbiamo giocato con questo chignon pieno di volume e pieno di trecce per dare questo effetto molto romantico bellissima bellissima e invece su chiara abbiamo giocato sempre con il discorso appunto delle trecce cambiando lo stile di treccia cioè la treccia sopraelevata così la vediamo meglio che è quella al contrario che invece di essere raccolta sulla cute è raccolta nella parte superiore della treccia in modo che può giocarci tranquillamente molto più morbida come lavorazione e nella parte dietro appunto abbiamo fatto un leggero fiore su questo chignon così con poco abbiamo creato qualcosa di diverso rimanendo nello stesso stile che avevamo scelto che era quello del tema delle trecce cos'altro aggiungere quando in questi casi le vostre acconciature parlano da sole la cosa bella è che usando anche dei prodotti adatti idoni alla situazione quando si vanno questa è la dimostrazione se abbiamo capito una cosa è questa che quando si spazzano e i prodotti sono di un certo tipo i capelli si possono rimodificare senza che i capelli si sciupino eccessivamente e poi non si spezzano e questa è stata la dimostrazione di poter cambiare delle acconciature molto tirate e molto lavorate anche come quella di Edona con una semplice spazzola se il prodotto è buono se la lacca è buona e si può rimodificare i capelli nell'arco di poco tempo hai apportato delle modifiche anche per quanto riguarda il trucco tipo? tipo abbiamo aggiunto un pochino di smokey l'hai intensificato vero? abbiamo intensificato lo smokey eyes ridando un leggero gloss questo effetto un pochino più rosso sangue sulla bocca e ovviamente polvere di brillanti la polvere di brillanti quella è ottima la prossima volta anche a Carlotta la polvere di brillanti è vero è vero tutto inizia dalla consulenza e soprattutto dall'ascoltare ma con un ascolto attivo il cliente o la cliente sì noi parliamo sempre con i nostri clienti per capire quello che fanno dove fanno quello che gli piace nella quotidianità o anche nel serale perché? perché quello ci dà spunto di prendere un indirizzo di quello che fai come proposta non per farvi gli affari loro anche anche però da quello le fanno incredibile anche però se pensi per gli spunti preziosissimi una signora una signora che ti dà uno spunto dove frequenta la sera se è una persona che fa tanti aperitivi tanti cocktail che puoi osare con dei colori puoi osare con delle acconciature con dei trucchi un pochino più vistosi se invece sono persone che hanno una vita un pochino più tranquilla o tranquilla o le piace più cose new age più cose diciamo semplici allora bisogna andare con tutte le cose un po' più calme non possiamo essere un po' aggressivi vi trovate esattamente a Quarrato l'abbiamo capito ma dove? in piazza piazza Risorgimento 66 a Quarrato i social non mancano attivissimi con story reel post tutti i giorni siamo su Andrea e Stefano Air Luxury grazie per essere stati con noi grazie a voi grazie per aver festeggiato il tuo compleanno con noi è stato un piacere immenso e ancora tantissimi auguri Stefano grazie 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 a te grazie anche a te Andrea grazie a me a prestissimo a prestissimo andiamo avanti con la moda di Donkey Swing tadaa marzio rieccoci qua terza ed ultima parte ci anticipi cosa vedremo? ecco vedrai qualcosa che secondo me quasi quasi mi viene voglia di stare zitto perché racconta raccontano da soli gli outfit anche in questo caso gli outfit parlano si parlano da soli per te parlano per te però volevo dire soltanto una cosa mi voglio riferire a quello che stavano dicendo loro di domandare ai clienti eh certo se lo posso dire in un attimo domandare ai clienti è sempre importante perché a me mi sono capitate delle persone che avevano dentro di sé qualcosa di estroso qualcosa di particolare chiedendo poi ho capito che erano dei personaggi o dello spettacolo o della musica che non avevo riconosciuto e che o almeno non ero così vicino per potergli riconoscere ci puoi fare qualche nome no sì no è meglio di no comunque no anche perché ora non so se loro vorranno raccontare queste cose però soprattutto dei dj famosi ok che quando hanno detto dice ma mi serve per lo spettacolo ho cercato di interpretare quello che praticamente poteva essere adatto a loro dopo ho svelato chi erano e ho capito che era giusto l'outfit da poterli dare insomma e questa è una cosa divertente e importante insomma che qualifica tutte e due sia a me per la soddisfazione ma anche loro per quello che io possa esprimere certo li facciamo parlare questi outfit facciamo di no facciamo di sì facciamo di sì prego energia come chiudere in bellezza mi sono innamorata mi sono innamorata di questo chiodo rosso anch'io infatti siamo in linea infatti lo vedi raccontano da soli allora Elisa con i suoi accessori e questo outfit che veramente ha bisogno di dire poco perché questo è un Levi's 501 color sabbia tutto impressionato da questi tattoo old school come fossero sul suo corpo la t-shirt chiaramente è prodotta da noi in abbinamento questo chiodo rosso anche per il colore è come la ciliegina sulla torta sei d'accordo? io direi proprio di sì non aveva bisogno di spiegazione no l'ho data solo per bisogno per i più curiosi sì per i più curiosi che è il tuo slogan tra l'altro sì per i più curiosi anzi solo per curiosi solo per curiosi solo per curiosi perché chi non si incuriosisce forse non ha nemmeno la volontà di voler migliorare è vero è vero andiamo avanti con la seconda proposta sì Lorenzo dimostra veramente qualcosa di particolare divertente perché come vedete anche lui con questo jeans con questo drago sulla gamba che sembra veramente tatuato su di lui la camicia in stile sempre con i draghi giapponesi che praticamente ha proprio un altro stile da quello di Elisa ma nello stesso tempo si assomigliano è vero questo ciubbotto con questo richiamo di colore è un vecchio chiodo tedesco che racconta veramente tutta la sua storia se lo potete vedere da vicino racconta veramente il suo passato perché ogni capo deve dimostrare di aver vissuto a parere mio per quello che è il vintage in questa maniera abbinati nel modo diciamo che sono loro sono praticamente due personaggi che se li vedete che vi posso dire sui lungomari di Miami non è che stonano anzi direste belli questi due di Miami è vero o no? scusate dove li avete trovati i capi? dove? e poi loro dicono cittadon che swing campi vicenzio anzi capalle e questo forse farebbe un po' sorridere dal nostro marzio che crea dei veri e propri total look grazie dalla testa ai piedi veramente grazie che cosa è possibile trovare? lo vediamo noi facciamo veramente un total look addirittura vestiamo anche i bambini ora appena avrò dei modellini giusti li porterò perché è una cosa divertente forse unire da noi ce li porti certo voi perché no e praticamente dai ragazzi alle persone più adulte possono veramente trovare qualcosa che li riporta un po' indietro nel tempo ma anche soprattutto nel futuro campi bisenzio precisamente dove? donkey swing via dei confini 110 località capalle solo per curiosi prossima volta mi vesti e se non mantieni la promessa marzio? no 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 io la voglio la voglio mantenere ma il tuo look che è così elegante e meraviglioso se lo posso sconvolgere e mi dai questo permesso puoi l'ha detto è confermato che la prossima volta faremo qualcosa di sconvolgente qualcosa di sconvolgente grazie a te grazie a prestissimo possiamo andare avanti con muoversi contro corrente lucia rieccoci qua quindi avete aperto da poco 18 inaugurazione 18 marzo abbiamo capito che vi trovate a figline ma precisamente dove? allora noi ci troviamo in corso mazzini 22 in centro a figline ripetiamo quelli che sono i benefici dell'allenamento allora i benefici sono tonificare innanzitutto aiutare le persone a stare bene con se stessi innanzitutto modellare il corpo per chi ne ha bisogno dimagrire rassodare e per chi ha vari dolori contratture dolori alla schiena dolori cervicali riusciamo anche ad alleviarli e aiutarli quindi migliorate cioè questo miglioramento proprio della struttura del corpo certo riusciamo anche a fare questo allenamento per tutti donne e uomini da qual'età? dai 18 alleanta quello sì un allenamento che richiede una seduta settimana di 20 minuti ma soprattutto ecco quando e dopo quanto si notano i benefici allora i benefici si notano dopo almeno 4 o anche 8 sedute dipende dall'intensità e dalle persone che hanno voglia di allenarsi e raggiungere il loro obiettivo fornite tutto il necessario sì diamo tutto gli diamo queste tutine poi li vestiamo e partiamo con l'allenamento non mancheranno i social immagino sì noi siamo sia su facebook che su instagram potete seguirci guardare noi mettiamo ogni tanto i vari allenamenti che facciamo ma ci interessa che le persone vengano a provare almeno una volta per capire quello che noi facciamo allenamenti con personal trainer diamo anche gli orari noi siamo aperti dalle 9 fino alle 8 la sera tutti i giorni dai lunedì al venerdì il sabato solo la mattina dalle 9 fino alle 2 detto questo abbiamo detto tutto grazie per essere stata con noi Lucia a prestissimo e soprattutto in bocca al lupo per tutto davvero crepi speriamo grazie mille a presto di nuovo a te adesso i consigli di Lucrezia ma vogliamo parlare di questa meraviglia di tuta ma è possibile farla a sua misura per me uguale guarda chiamerò il sarto ecco ma soprattutto questi piedini guardate come sono veramente tutto al dettaglio sempre rosa la rabbi assolutamente ecco e questa per esempio potrebbe essere una tutina da mettere proprio al proprio bambino alla propria bambina durante una cerimonia eventualmente assolutamente sì è una tutina molto semplice ma graziosa ispira la primavera e quindi perché no la possiamo mettere a un bambino di 6-9 mesi o 3 mesi per le comunioni piuttosto se è invitato anche a un battesimo a un matrimonio o proprio per un regalino assolutamente sì un piccolo pensiero per i miei miracoli ecco e dei bambini cosa che servizi possiamo trovare oltre alle tute anche l'intimo giusto? sì assolutamente abbiamo sia le calzamagline che i body abbiamo gli slip abbiamo le canottiere sia per piccoli che per grandi e anche un po' di accessori quindi delle passatine delle clip per i capelli le sciarpe i cappelli per la stagione che fanno sempre parte sia degli accessori che dei piccoli cadeau che adesso possiamo magari pensare di fare anche per la Pasqua al posto dell'uovo per non andare dalla fatina dei denti perché l'uovo fa male quindi perché non regalare questo è una sorpresa impacchettata dalla Lavi o magari mettere proprio una tutina dentro l'uovo perché no un'altra idea attenzione che io prendo spunto lo sai che poi dopo metto in pratica donna dalle mille cose ma prima di parlare delle mille cose farei vedere un'altra anticipazione della primavera insieme alla nostra Lara quindi vai con la sfilata bellissima all'ultima moda con il motivo floreale ebbene sì Lara ha un vestito leggerissimo in chiffon e cotone la foderina e floreale che riprende proprio la primavera questo è adatto come dicevamo prima nella nostra giornata tipo la mattina col tre pezzi il pomeriggio col due pezzi comodo la sera se mamma e papà lo vogliano portare a cena fuori possiamo mettere un vestitino del genere oppure mi viene in mente per una cerimonia che adesso ci sono appunto le comunioni le crezioni i battesimi i matrimoni è sempre un tessuto morbido adattabile sempre perché il bambino si deve sempre sempre sentire a suo agio anche in un abbigliamento un pochino più strutturato come quello che stiamo vedendo adesso un pochino più elegante esatto ha una gonna plissè che fa la ruota Lara facciamogli vedere la ruota a questo abito se ti va facci una giro a volta Lara wow bravissima mio amore ed è comodo è divertente per le bambine perché poi si divertono guarda come è il mio vestitino guarda che bei fiori eccetera quindi tornano anche i motivi assolutamente invece di avere cose classiche semplici quest'anno si va per le fantasie mentre per i maschietti siamo tornati invece indietro nel tempo perché per il maschietto se prima dicevamo che il jeans e una polo poteva andare bene adesso abbiamo il pantalone di tessuto la camicia il doppio petto il papion il cravattino da uomo proprio assolutamente abbiamo tantissimi clienti che mi stanno chiedendo proprio lo metto perché si sono un po' scocciate di avere il bambino sempre con la tuta ai matrimoni preferiscono adesso avere qualcosa di un pochino più classico e anche per la foto di rito che a tutti piace e quindi la ricerca di queste cose la potete assolutamente trovare al mio banco se non ho questo articolo non vi preoccupate perché io vi inviero le foto si faranno le consegne a domicilio sceglierete i tessuti e i capi che meglio volete vestire proprio comodamente anche di voi ecco per esempio per scriverti c'è un contatto social dove ti possiamo trovare potete contattarmi tramite messenger quindi facebook a Tatiana Di Mambro oppure instagram sempre col nome e cognome ecco nel tuo banco oltre ai classici servizi quindi abbigliamento intimo e chi più ne ha più ne metta sempre in super aggiornamento troviamo anche degli sportelli help sì come abbiamo come ci siamo soffermati di più nelle scorse puntate al mio banco abbiamo appunto il punto d'ascolto per le mamme in gravidanza oppure dopo piuttosto che il numero importante che è il 15 del 22 per il numero antiviolenza ma soprattutto il mio furgone è logato con i simboli della Smile Project spieghiamo un pochino la Smile Project è un'associazione eritrea che aiuta ai bambini e le mamme laggiù per creargli un futuro quindi ho deciso di sponsorizzare l'imprenditoria al femminile anche in Africa negli aiuti assolutamente e questo è un bellissimo messaggio abbiamo anche la carta regalo logata della fondazione Smile Project di Elsa Michael benissimo riepiloghiamo velocemente dove ti possiamo trovare martedì alle cascine giovedì al Galluzzo venerdì l'isolotto sabato stesso fiorentino ti verrò sicuramente a trovare e a curiosare all'interno del tuo banco quindi aspettami assolutamente e noi passiamo alla linea Carlotta e ovviamente chiudiamo in bellezza grazie ai cappelli Grevy questo brand di valore internazionale che siete davvero riusciti a crearvi una clientela esigente ma allo stesso tempo affezionata cosa significa chi sono i vostri clienti tipo ma il nostro clienti tipo allora diciamo noi bene o male siamo distribuiti un po' in tutto il mondo quindi abbiamo abbiamo clienti un po' in tutto il mondo quello che che si riconosce più in un prodotto come il nostro è quello che cerca un po' qualcosa qualcosa di diverso dai percorsi dai percorsi normali diciamo nei grandi marchi e cose così perché comunque il nostro è un prodotto di un certo livello e quindi anche di un certo costo però è fatto ancora tutto in Italia tutto a mano tutto su idee nostre che poi a volte sono le idee quelle che costano di più non tanto la manualità eccetera e fare un qualcosa di tua con le tue idee noi siccome abbiamo un enorme archivio sia immagino quindi e la moda si sa è una cosa che va e viene quindi diciamo che il nostro cliente riconosce che è un prodotto fatto in modo diverso sia per la sua valenza manuale e tecnica ma anche per la sua vestibilità cioè ti metti la cosa e ti sta bene è un po' le stesse cose che ci sono nell'abbigliamento in poi tutte le cose no se quando una cosa ti la metti e sta bene fa la differenza e quindi secondo me è questo quello il nostro cliente è quello che cerca qualcosa che non trova altrove è possibile personalizzare è possibile anche personalizzare per delle esigenze particolari tipo mentre ora non si è parlato dei bambini e degli uomini ma noi abbiamo anche clienti e lì la taglia è fondamentale mentre la donna è più più facile come con le taglie per la testa sia i bambini che gli uomini sono più molto chiugiosi va bene i bambini è normale che nascono con la 42 nascono con la 42 e dopo e dopo 6 anni ci hanno la 54 quindi insomma quello è normale però facciamo anche i cappelli per donne e bambini ma per cerimonie anche facciamo anche per qualsiasi davvero esigenza sì 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 belli e soprattutto di qualità questo significa che è un investimento perché la qualità esatto dura no allora senti è un investimento è un investimento sia di secondo me temporale perché è un cappello che cioè un nostro come un prodotto fatto veramente in Italia è un investimento perché magari con un mio cappello ci compri un cappotto e un paio di scarpe però magari l'hanno dopo un terremetto io perché sono tutti rotti invece il nostro è un prodotto che rimane sicuramente nel tempo e in più è un po' come ti ripeto un design nuovo su ispirazioni degli anni quindi è un qualcosa di veramente unico che è un'unicità importante studiati davvero sotto tutti i punti di vista con dei materiali davvero esatto che sono anche difficili da lavorare sono anche molto difficili da lavorare e devi fare molta molta attenzione io sai quanti cappelli io no perché io sono commerciale quindi per me va tutto bene ma le mie sorelle che fanno la produzione scartano tantissimi cappelli e dicono sempre questi hanno il biglietto e è andato a ritorno ah sì? sì le sorelle che si chiamano? Roberta e Silvana che ovviamente salutiamo ma questo? questo è un cuore sempre con questa questo è un cuore con questo velo like tattico sì che puoi mettere come più ti piace abbiamo detto velo giù niente velo su velo su si può fare si può avvicinare si può avvicinare bellissimo non lo sai che cos'è un like tattico? spiegacelo mi ha spiegato mia figlia praticamente su Instagram se metti un like solo non lo sapevi questa cosa aspetta aspetta forse sì forse sì aspetta se mettiamo un like solo se metti un like solo vuol dire che ci si può ci si può vedere vedere più like due è vero è vero questi like oggi Instagram funziona così cioè questi like parlano a proposito di parlare non parlare e lui e questo è un anche questo qua vede è sempre la base di setta dietro e poi te lo metti un po' è un po' come pettinarsi no? come ti piace di più queste sono tutte sono diciamo come piume di seta tagliate tutte a mano piume di seta questa è seta piume di seta cioè è la riproduzione di una piuma ma in realtà è seta sono è della seta ritagliata che fa questo effetto piume ma è e questa è una è un fiore fiore la chiudo così queste sono tutte cose da con questa margherita molto cioè con questi non è che ci vede banca la mattina però però per una cerimonia e guarda i ragazzi mi chiedono sempre più cose di questo tipo per una cerimonia perché insomma ti danno una certa ti fai notare e ti danno un senso di mistero di personalità di e poi anche gioioso direi proprio non stai tre anni senza uscire è vero e allora esageriamo 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 domanda delle domande per qualsiasi informazione contatti sito c'è tutto vero instagram è grevi 1875 che è la data di fondazione grazie per essere stato con noi ma grazie a voi a prestissimo sempre un piacere prestissimo ci vediamo prestissimo grazie mille perché adesso da cappelli di valore internazionale a cappelli istituzionali come quello da cuoco vero Sara? sì questo sì attenzione che cappello visto? facciamo a cambio? lo potresti fare però dice di sì Sara sei pronta? io sono pronta sto aspettando te quindi Sara è pronta io sono pronta e voi pronti con noi dalle ore 19 tada continua in cucina restate sintonizzati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti